Viso angelico e tenerissimo per questa splendida bimba, oggi è famosissima, di chi si tratta? La splendida bimba che potete ammirare in questo scatto vanta ancora adesso un viso angelico, oggi è famosissima, riuscite a capire di chi si tratta? Ancora oggi ha lo stesso viso angelico, sebbene qui fosse una tenerissima e splendida bimba mentre adesso è una vera star, famosissima, riuscite a capire di chi si tratta? Di certo la somiglianza straordinaria farà la sua parte, ma noi vi aiuteremo comunque con qualche piccolo, aiuto La magnifica protagonista di questa foto è nata nel 2001 ed è figlia di una coppia molto celebre del panorama artistico Talentuosa, brillante e bellissima, si è fatta conoscere e amare dal pubblico per le sue doti straordinarie Di recente l'abbiamo ammirata in un programma davvero famosissimo. A soli 17 anni, inoltre, ha debutato come attrice in un film di carattere storico Vi è chiaro di chi stiamo parlando? Oggi è famosissima, ma ha ancora il viso angelico di quando era una bimba, di chi parliamo? Possiamo aggiungere che ha un talento naturale per la musica, infatti, si è dedicata alla carriera di cantante Ha un profilo Instagram seguito da quasi 100.000 follower dove mette in risalto molti aspetti della sua vita privata e lavorativa Ha diversi fratelli e sorelle, alcuni nati dai precedenti matrimoni dei genitori Avete capito chi è questa magnifica bimba? Ovviamente è la splendida e talentuosa Jasmine Carrisi Figlia di Albano e Loredana Lecciso, coppia nota e seguitissima dello spettacolo Jasmine ha una naturale predisposizione per la musica, come ha già ampiamente dimostrato Di recente, è stata giudice insieme al padre, Albano, del talent, The Voice Senior Che ha dato modo al pubblico di conoscerla e apprezzarla per le sue grandi e innegabili doti Avevate riconosciuto la splendida artista? Ecco uno scatto che la ritrae oggi Oltre a possedere uno straordinario talento, Jasmine Carrisi vanta anche una bellezza davvero angelica Occhioni chiari e lunghi, capelli biondi, sorriso luminoso e una dolcezza nei tratti che incanta il pubblico Grazie a tutti Grazie per la visione!